Ragazzi, appena terminata la partita a Sassari, con una splendida vittoria nella nostra Vuel, io non ho parole. Appena conclusa la partita, una serie di emozioni di contrasti interni, quindi grande gioia, grande rammarico per non aver visto una squadra così, tra virgolette, motivata, perché immagino che la motivazione ci possa essere sempre stata in queste settimane, in questi mesi, ma pensare a una squadra talmente spenta in tantissime partite, settimane precedenti, e vedere quella di oggi è una cosa che fai fatica, si fa fatica a spiegare. Comunque, oggi abbiamo dimostrato, abbiamo condotto una partita molto molto gagliarda, sia singolarmente che di squadra, singolarmente perché ogni giocatore che è sceso in campo ci ha messo veramente il 100% dell'intensità, cosa che le settimane precedenti non è avvenuta in tante occasioni, rispetto alla partita contro Treviso, la trasferta precedente, che comunque era stata una partita giocata con un'intensità molto migliore di tante altre volte, però era mancata un po' di lucidità in generale e oggi comunque si è alzato proprio il livello anche tecnico del gruppo. Abbiamo visto addirittura un Ford attaccare il ferro anche in un modo sconosciuto, quasi, per noi. Bluiet ha fatto un finale clamoroso, cincia molto molto ordinato, Visconti ha dato una grande mano anche a lui, il primo tempo di Mazzola, di Tambone, non so chi dimentico. Una squadra che è stata sopra nel punteggio, a parte all'inizio un 15-6 sotto, che non lasciava presagire niente di buono. Poi siamo andati sopra, abbiamo rintuzzato almeno tre volte un più 6 di Sassari che, insomma, visti i precedenti nostri, pensavamo che non potesse chiudere la partita, addirittura un meno 4 con una tripla del nostro greco ex Aram Populos che nel finale si pensava potesse dire ciao ciao alla partita e niente. Adesso il rammarico potrebbe essere, visto quello che hanno messo, che hanno tirato fuori dalle loro viscere ai nostri giocatori, è un rammarico a livelli altissimi, pensando che comunque lo svantaggio in classifica è importante perché comunque siamo a meno due, adesso speriamo che Napoli batta Varese, cosa potrebbe essere anche possibile, ma Napoli è vero che è reduce da 4 sconfitte consecutive, ma giocandosela molto bene a Milano, una brutta sconfitta a Tortona, una sconfitta a Venezia mi sembra, è un'altra punto a punto, comunque insomma stiamo a vedere, oggi abbiamo visto una grande partita e mi vengono in mente le clamorose vittorie degli anni precedenti, quando però ne andava giù una sola ma eravamo con l'acqua alla gola in campi molto difficili e quando nessuno di noi ci credeva, niente stiamo a vedere cosa succede oggi alle 4, 4 e mezza a Varese e Napoli e poi facciamo il punto, ciao a tutti